Ciao stronzi, infraditi zafiri, attenzione, oggi è il compleanno del cantante Marvin, ma chi è? Quello del let's talk about a man, he doesn't understand, si, sti cazzo, ma non è di questo che volemo parlare, cominciamo subito, come tutti i giorni se gioca, quindi avanti bei giovanotti avvicinatevi, dai su su dai avanti forza su 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 giù er gettone, oggi se vince un cappotto de pelle coi guanti e a sciarpa, bene, con la scritta voglia de dance da indossare subito, bene, senza troppe moine, ecco er gioco, com'è? Sapete dirmi quante persone ce sono oggi all'acqua fan? Quante? 6574, incredibile Albertino, brava hai indovinato, ma non hai vinto, passiamo alla seconda domanda, dimmi tutti i nomi dei 6574 paganti Ivan Marco, Giuseppe, Francesca, Sofia, Elena, Claudia, Federica, Poffi Non li sai? Poffi? Non li sai, dai, non li sai, li sai tutti? Certo No, non li sai, li sai o non li sai? Non li sai Albertino Non li sai Ai 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 che delusione, ma non te vergogni, che te costava chiede? Pazienza Andiamo a cominciare, famo tutti per conto alla rovescia, come a Capodanno Ok Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Zero Ok Splash